Ancora jazz nel cuore del centro storico Aretino, prosegue Fati Arezzo Jazz Summer 2022 nella cornice di Piazza della Badia. Nuovo doppio appuntamento anche martedì 6 settembre in prima serata il Natia Quartet con arraggiamenti jazz di note e canzoni di cantautori italiani, spazio poi al quintetto del grossetano Michelangelo Scondroio. Il Natia Quartet che è composto da tre musicisti Umbri e un transfugato Aretino che vive in Umbria da tanto tempo, che sono io Mauro Carboni, Max Puccerini al pianoforte, Luca Grassi al contrabbasso e Mauro Giurgis che è la batteria. È un repertorio originale perché è chiaramente frutto di arraggiamenti miei e poi di elaborazioni del gruppo ed è una rivisitazione in chiave jazz proprio completa di molti brani della grande musica popolare italiana degli anni 50 e 60 e anche di qualche hit straniero. Il jazz, oltre ad essere chiaramente un ambito, un genere, un percorso di studio, è una scelta di vita. È proprio questo, come dicevi tu, è un cercare dentro di sé delle soluzioni che tu stesso non ti aspetteresti, quindi tanto meno il pubblico, pur sempre rientrando in un linguaggio condiviso.